Conchiglie ripiene di ricotta di pecora con tartufa estivo su crema di zucchine e scaglie di tartufa estivo o scorzone. Siete curiosi di sapere com'è fatta? Seguite questo video. Ciao sono Franco Palandra, mi reputo uno chef mediterraneo della cucina italiana e in collaborazione con Casentino Tartufi vi propongo questa video ricetta dove oltre che la ricetta vi parlerò anche come conservare i tartufi freschi e anche un modo migliore per abbinarli, per esaltare il profumo e le sapone. Spero che vi piacerà, buona visione! Ci serve una cipolla, ci occorre anche uno spicchio d'aglio, ci servono delle zucchine, una piccola patata, del basilico fresco e del brodo di pollo, il principe del piatto, il tartufo estivo cosiddetto scorsone. A questo punto andiamo a cucinare. Allora partiamo con l'olio d'oliva in padella, inizio a far cremellare la cipolla. Cosa succede con la cipolla? Con un po' d'olio inizio a tirare fuori i liquidi e anche lo zucchero naturale, lo zucchero naturale che c'è nella cipolla. Gli mettiamo un pizzichino di sale e la facciamo appassire. Tra un minutino andremo anche con le patate e l'aglio. L'aglio in questo caso lo metto sempre dopo perché se lo metti adesso tenderà a bruciarsi. Aggiungo la patata. Aggiungo anche l'aglio. Faccio appassire anche l'aglio appena appena. La cipolla ha iniziato a cambiare colore. Adesso aggiungo le zucchine. 30-40 secondi. Metto a fuoco medio e lo lasciamo cucinare così per 30-40 secondi. Intanto inizio con un po' di pepe. In questo caso userò un pepe bianco che è più delicato con il tartufo, che il nostro principale ingrediente sarà il tartufo. E mi sono fatto precedentemente un bel brodo di pollo fatto con i cosciotti di pollo sgrassato e cotto, raffreddato e vado ad aggiungere a coprire diciamo le zucchine. Era 250-300 ml di brodo. E lo lasciamo cucinare tutto insieme a fuoco moderato. E adesso ci prepariamo, che non vi ho detto, la farcia per le conchigliette. Le riempiremo con della ricotta, parmigiano e lo scorso. E ci si va a cucinare la pasta. L'acqua bolle, un pizzico di sale grosso e andiamo a metterci la pasta. Più che è sufficiente. Giriamo. 11 minuti ed è pronta. Ora, innanzitutto inizieremo a grattugiare il tartufo. Facciamo fine così è più piacevole quando mangiamo. Lo scorzone, come tutti i tartufi, ama la combinazione con patate, uova e formaggio. Oggi in questo caso useremo patata c'è nelle zucchine, zucchine comunque ci sta comunque bene, e del formaggio. Io ho abbondato perché essendo scorzone. Questo qua, anzi, è della casentino tartufi, dell'iservetta, è molto profumato. È bello maturo. Ha un bellissimo odore. Io non li lavo quando li tengo in frigorifero. Di solito li tengo così, come me li ha dati, li metto in un barattolo, li avvolgo nella carta da cucina, nel barattolo chiuso. Ogni giorno provvedo a cambiare la carta, rimettere una bella asciutta e richiudere. Rimangono per un po' nel frigorifero tranquillamente. Li lavo quando mi servono. Di solito uso una spazzola, anche con le pelle unghie, che bagno sotto l'acqua, e gli va una leggera grattata, per togliere tutta la terra che c'è. Questo è molto importante. Qui abbiamo ricotta di pecora, io preferisco usare la ricotta di pecora. Vado a buttare l'acqua, il siro in eccesso. Ci aggiungo il tartufo appena grattugiato, un paio di manciate di parmigiano, un pizzichino di sale, e di nuovo del pepe bianco. Mescolare per amalgamare il tutto. Assaggeremo se servirà dell'altro sale o dell'altro parmigiano. Un altro po' di... di parmigiano. Andiamo a controllare a che punto sono le zucchine. Più delle zucchine, io controllo le patate, se sono cotte. Le zucchine, anche se sono leggermente crude, vanno benissimo. Manca un po' per le patate. Un altro paio di minutini. Per dare più spinta al tartufo, all'eripino, si potrebbe usare anche una crema tartufata. A volte uno non ha a disposizione il tartufo fresco, si può usare la crema tartufata. Che vado a prenderla. Se uno non ha il tartufo fresco, si può comunque usare della salsa tartufata. In questo caso qua, sempre della Casentino Tartufi, sempre di Elisabetta. Metteremo un po' di questa salsa tartufata nel ripieno, che ci sta sempre bene. Questo qua, trecchiamente, lo potete anche usare sulle bruschette. Il pane appena tostato, con un po' di formaggio, userete la salsa tartufo. Un cucchiaino di questa salsa tartufata. Poi, una volta che l'avete usata, tranquillamente la potete riporre, chiudete, aggiungete l'olio sopra e la mettete nel frigo. Rimarrà per un bel po' aperta nel frigo. Poi, all'impegno di uno, si fa anche le uova, che è un classico. Ci puoi fare della pasta, delle tagliatelle. Anche i ravioli, i ricotti e spinaci, sopra, una bella salsa, burro e scorzone. Salsa tartufa ad estiva. Adesso si sente ancora di più. E mi vado a riempire una tasca da pasticceria. Nel frattempo, controllo di nuovo le zucchine. La patata è bella cotta. Nel frattempo che la pasta cucina, ci andremo a passare al frullatore le zucchine. Tempo di pulire. E si fa. Postazione pulita. E ho preparato già il bicchierone per il frullatore. Andiamo a metterci le nostre zucchine, cipolle e patate. Patate, ripeto, un pochettino solo per legare. Poi, se vi piace più patata, ben venga. Sta a voi. Ok. Questa qua, se la volete servire calda, la riversiamo nella padella, altrimenti la lasciate nel bicchierone. Andiamo a mettere sale e pepe. Pezzicolo di sale e pepe. Parmigiano. Un'altra bella manciata di parmigiano. Dell'olio d'oliva. E mi sono tenuto un paio di cucchiai di brodo di pollo, giusto nell'evenienza. Chiudiamo e si frulla. Andiamo ad aggiungere a questo punto un po' di basilico. Basilico ti riporta la freschezza, ti ricorda l'estate. Quindi gli diamo un po' il sapore del basilico, che non è invadente, e anche per dare più colore alle nostre zucchine. Assaggiamo. Ecco qua. Buonissima. Delicata. Si sente la zucchina, anche il parmigiano. andiamo a metterla. Io la rimetto in padella e si aspetta che la pasta sia cotta. Ed ecco qua. La pasta è cotta. Che andiamo a fare? L'ho scolata. L'abbiamo messa di svegliere nel piatto. Non la raffreddiamo perché è abbastanza al dente. La pasta è abbastanza al dente. Vado a riempire queste conchilline con una crema di tartufo. Con la crema di ricotta, parmigiano e tartufo. Non le ho riempite tutte. E' solo per dimostrarvi. Poi, dopo, con tranquillità, le riempiamo tutte. Vado con questa bella crema di zucchine. Le metto nel piatto. Stendo un po'. E andiamo ad aggiungere la pasta su. Io penso che bastano queste qua. come antipastino sciacquo le mani e vado direttamente su con del tartufo. filo d'olio e il piatto è pronto. Questa è la versione che ho fatto come antipasto, sempre semplice. C'è un'altra versione che vi vorrei far vedere. Faremo una versione con l'uovo in camicia. Che cosa andremo a fare? Stessa versione, però al centro metteremo questo bel uovo in camicia. Nella stessa acqua della pasta andremo a aggiungere, infatti l'ho lasciata su apposta, l'acqua bolle. Andremo a aggiungere dell'aceto. L'aceto aiuterà a cuoagolare l'uovo. andiamo a girare per creare un vortice centralmente dove andremo ad appoggiare l'uovo. Così il bianco si coagula intorno al rosso e lo lasceremo cucinare per pochi minuti. Così l'uovo ci rimane bello e rosso bello crudo. Nel frattempo mi riempio di un altro po' di conchigliette. Ecco qua, crema di zucchine. Andremo a appoggiarci e lasceremo lo spazio centralmente per l'uovo. Controlliamo l'uovo. Ecco qua. Con la schiumerola andiamo a alzare l'uovo. Sono passati due minuti. L'uovo adesso è ben asciugato. Gli rimettiamo centralmente. Ecco qua. è ricca grattugiata di tartufo. Versione con l'uovo. Se vi è piaciuto il video mettete a like o seguitemi sui social e ne proporò degli altri. Nell'occasione voglio ringraziare Elisabetta della Casentino Tartufi per i splendidi tartufi che mi ha regalato. A presto. Ciao. Ciao.